Voleva vivere a Casoli in mezzo alla natura, ma ha trovato la morte. Michelle Firesdown, una donna inglese di 66 anni, è stata trovata questa mattina priva di vita in una pozza di sangue nella sua casa, in località Verratti, a Casoli. La macabra scoperta è stata fatta da una sua amica, anche lei inglese, ma che vive a Palombaro. Da alcuni giorni le telefonava ma non aveva risposta. Questa mattina, dopo averla nuovamente chiamata al telefono ma senza esito, ha deciso di andarla a cercare a casa. Sono state le sue urla dall'armare i vicini che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Michelle è stata trovata con diverse ferite da arma da taglio all'addome. Si era trasferita da alcuni anni a Casoli insieme al suo compagno Whitbridge Michael Dennis, 74 anni, del quale sembrerebbero essersi perse le tracce e i carabinieri lo stanno cercando e stanno cercando anche l'auto di famiglia, una Jeep Compass. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casoli, della compagnia di Lanciano, presente il colonnello greco, comandante provinciale, intervenuto il procuratore Mirvana Di Serio, il medico legale Pietro Falco. Non si esclude che la donna possa essere stata uccisa da alcuni giorni, in quanto proprio da alcuni giorni non rispondeva telefonicamente all'amica. Saranno le indagini e l'autopsia a far luce sul grave episodio che ha creato sconcerto tra gli abitanti della contrada.